Mentre a Milano andava in scena la Fashion Week, a Tortona, al Gran Gala Benefico della Moda 2019, sposava la causa solidale della Croce Rossa, mettendo a segno l'obiettivo più importante, finire di pagare le due nuove ambulanze, che entro il mese di marzo saranno a servizio della popolazione del territorio. E così in un museo orsi, dove sono stati riempiti i 750 posti a sedere, e dove altro pubblico ha seguito in piedi la manifestazione benefica voluta da Patrizia Mauri, presidente del comitato locale della Croce Rossa di Tortona, su una passarella lunga 50 metri, ha respirato la collezione Primavera-Estate 2019 del sarto Vincenzo Marino, che insieme al suo compagno Massimo Citterio, ha presentato per la prima volta la sua linea più daily, più portabile, quella della Couture a Portè. Presentato da Alessandra della Caca, ha illustrato le finalità dell'evento, e ha ricordato che mancavano solo 5.000 euro per raggiungere l'obiettivo, e che le due ambulanze erano già in fase di allestimento, il fashion show del sarto ha fatto vivere ai presenti una bellissima storia d'amore, dove gli abiti di chiffon si sono accompagnati ai parka in stile militare, dove capi virginali, pizzi e sangalli ispirati ai corredi della nonna, si sono alternate a una serie più rock ed avant-garde, con forme inedite tagli sperimentali. Sul red carpet hanno sfilato 177 abiti indossati da 30 modelle e 6 modelli per un totale di 81 uscite. Un piccolo grande record che ha incantato tutti, considerati i tempi canonici e molto ristretti delle passerelle milanesi. I protagonisti del gala benefico della moda non hanno mai perso di vista i volontari della Croce Rossa, e l'ambulanza simbolo portata all'interno del Museo Orsi. A fine serata già si percepiva il risultato di un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Ora la prossima grande emozione sarà quella del giorno dell'inaugurazione di questi due preziosi mezzi, acquistati grazie alla generosità della gente e al supporto delle istituzioni locali.